ciao a tutti amici degli anni 80 oggi finalmente un po più di tempo mi sono goduto anche il mare per mostrarvi qualcosina in più sull'evento retromania 80 stasera stanno preparando il palco per il live di questa sera ci sarà serina dei cavalieri del re adesso andiamo a spiare il dietro le quinte con l'organizzatore colui che ci ha permesso di essere qua perché io devo farmi perdonare perché ieri purtroppo nel casino anch'io ho fatto veramente poco a parte la diretta la diretta serale che ho visto che è piaciuta ho fatto vedere i motorini si ho scoperto di avere un motorino che vale un sacco di soldi l'anno prossimo no no lo vado a prendere da casa dei miei lo vendo subito su ebay è diverso allora diciamo un po cosa ci sarà questa sera allora il programma è abbastanza ricco cominciamo alle 17 con tutti gli stand espositivi un po il programma è lo stesso della giornata di in più questa questa giornata ci saranno alle 19 no perdona alle 18 e 30 una sfilata di moda e tagli anni 80 con la panna alle 21 inizierà il concerto ci saranno prima in ispitz una cartoon cover band della zona molto molto bravi alla fine del loro set accompagneranno per un per un breve concetto la grande chio passerina dei cavalieri del re e a seguire ci sarà un purpurì di musica da rock al pop all'elettronica sigle tipo e qualità dovrei far vedere anche qualcosa di cibo devo fare un po come quello il mio viaggio a new york sai pietro più buon piero armini che fa vedere sempre che si mangia e poi facciamo vedere soprattutto che l'organizzatore si dà da fare cioè deve montare come mi sono svegliato sono venuto ok o facciamo vedere anche il mare perché non è che a grotta mare si può venire anche in vacanza non solo chiaramente per retro mania niente adesso monto lo stand e ci vediamo un po fra pochino che vi faccio vedere anche il mercatino che ci sono tanti gadget carini anni 80 e magari vi faccio spiegare quel cosina da tutti ciao a tutti